Di cosa si occupa la psicologia? In particolare del funzionamento della mente, del comportamento osservabile e della personalità. La subacquea è un'attività che pone la sua attenzione all'esplorazione del mondo sommerso. La subacquea coinvolge anche fattori psicologici, si tratta di persone che condividono la propria passione, si tratta di gruppi e anche di un contatto intimo con la natura. Le principali didattiche, forse tutte le didattiche, in particolare anche il DAN, il Dive All Art Network, che è una compagnia assicurativa per i subacquei con anche una ricerca medica, pone il panico come primo fattore di incidente subacqueo. In una tesi di laurea sviluppata nel 2016 e nel 2017, sono state impiegate quindi due tecniche, una appartenente allo yoga, lo yoga del respiro, lo yoga parnayama e la respirazione idana di sodana, respirazione e narizia alternata. È un'altra tecnica della psicologia sperimentale, il biofeedback di secondo ordine, che è un tipo di tecnica che prevede la possibilità, in formato video o in formato audio, di ricevere un'informazione fisiologica, in questo caso un cuore a 60 battiti per minuto, in modo da favorire quindi la sicurezza e il benessere del subacqueo, promuovendo quindi un abbassamento della tensione, dello stress e dell'ansia. Si è tenuto conto di quelli che sono stati i limiti di questa indagine sperimentale, ma anche i possibili sviluppi da un punto di vista qualitativo e quantitativo, per quello che è stato il primo disegno di ricerca che ha impiegato queste due tecniche in un contesto di immersione subacquea con autorespiratore per favorire la sicurezza e il benessere del subacqueo in ogni circostanza.